Musica In nome del popolo italiano il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza Visti gli articoli 533-535 codice di procedura penale 324 al codice penale dichiara Malaspina, Giorgio e Succio Giovanni colpevoli del reato loro ascritto al capo A e condanna ciascuno alla pena di anni 1, mesi 9 di reclusione all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena nonché al pagamento delle spese processuali Assolve Gonella Carlo dal reato di cui ha il capo A per non aver commesso il fatto Assolve Gallo Giancarlo, la Torre Leonardo e l'Uberto Salvatore dal reato loro ascritto al capo B perché il fatto non sussiste Un impianto accusatorio ha retto pacificamente per cui direi che sono soddisfatti L'utilità grande di questo processo è stata quella di attivare tantissime persone che hanno deciso, che magari prima appunto non se ne erano interessate che hanno deciso di agire civicamente contro la corruzione La società civile ti è stata al fianco, le istituzioni? Le istituzioni sono state a volte di fronte, a volte contro, a volte assenti E' fondamentale che le istituzioni, come dicono numerosi trattati internazionali per sconfiggere la corruzione è necessario che le istituzioni siano a fianco di chi decide un'azione civica di contrasto alle dinamiche di corruzione Le condanne a mio giudizio sono ingiuste perché l'agente provocatore al di là di qualsiasi polemica processuale non può sollecitare, istigare, sostanzialmente creare il fatto di reato Ti ritieni un agente provocatore? Mi ritengo un cittadino normale, mi ritengo un cittadino normale che fa delle cose normali che in un paese normale dovrebbero essere comuni Questo è proprio il problema Il nostro paese va così male perché c'è chi ritiene che chi fa il giusto sia un agente provocatore No, non sono un agente provocatore No, non sono un agente provocatore